Presenta il Trentino Alto Adige e si chiama Sara Ridolfi con il codice di televoto 09 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 Sara Ridolfi con il codice di televotoague o Oh no, I know where I'll be I give thanks to my God cause I know where I'll be I give thanks to my God Thank you